Ciao a tutti ragazzi, bentornati al mio canale. Oggi voglio parlare con voi, o meglio, voglio fare una panoramica con voi di una delle ultimissime novità nel mondo del dropshipping sui marketplace che sta letteralmente esplodendo in America che io sto testando, ho iniziato e voglio condividere poi con voi. Sto parlando dei Facebook Shots. Avrete visto nel mio canale in passato video riguardanti Facebook Marketplace, ok? Ma non lo confondete con Facebook Shots che sono due cose totalmente diverse. E oggi ti mostrerò cose Facebook Shots, che vantaggi ti può dare. Se puoi registrarti anche tu, come iniziare e soprattutto ti farò vedere un negozio così potrai vedere tutte le funzioni di Facebook Shots e farti un'idea della potenzialità che può avere. Perché, ragazzi, davvero, tramite Facebook Shots ci sono persone che stanno vendendo letteralmente milioni e milioni di dollari in dropshipping. Ma ricapitoliamo un attimo e partiamo dal principio. Cosa sono i Facebook Shots? Facebook ormai sta cercando di diventare un marketplace vero e proprio o perlomeno ormai è diventato un marketplace vero e proprio e l'abbiamo visto all'inizio con il marketplace personale e degli account personali. Se hai seguito i miei video sai bene che c'era un limite c'erano diversi limiti al marketplace personale. uno, non potevi vendere da fuori USA perché dovevi essere un citrino USA per avere l'opzione di spedizione del marketplace ok, quindi seguimi parliamo di vendere del marketplace Facebook con l'opzione di spedire gli oggetti ossia gli acquirenti possono pagare direttamente dentro Facebook e Facebook invierà altri risolti e tu puoi mettere il numero di tracciabilità su Facebook come succede con eBay, con Amazon e tutti gli altri marketplace. questo era possibile con il marketplace personale però c'erano delle limitazioni in quanto se non avevi un citrino USA non avevi questa opzione disponibile e se utilizzavi account USA magari tramite VPN o altro eri limitato dal social security number numero personale delle tasse americano che viene richiesto dalla piattaforma quando raggiungi 600 dollari di vendita quindi era ovvio che se non eri un citrino USA o avevi alcance con qualcuno USA non potevi comunque andare molto lontano e scalare questo è il marketplace normale di cui abbiamo già parlato qual è la differenza con i Facebook Shops? devi sapere che da un po' di tempo parliamo già da penso un paio d'anni su Facebook è possibile creare delle pagine business e questo non c'è nulla di nuovo in queste pagine business era possibile fare inizialmente una vetrina dove pubblicare i propri oggetti del proprio negozio in vendita credo che molti di voi hanno capito cosa intendo nella pagina dell'attività tu puoi mettere gli oggetti in vendita e questi oggetti poi avevano un link per gli acquidenti su Facebook cliccavano su Facebook e venivano reindirizzati al tuo sito quindi un'ottima forma di pubblicità se avevi una pagina su Facebook questo poi ha preso il nome di Facebook Shops quindi i Facebook Shops sono pagine business in cui tu puoi vendere gli oggetti attenzione ancora la spiegazione non è finita quindi il bello deve ancora venire cosa è successo? siccome Facebook vuole diventare un vero marketplace ha di recente nel corso dello scorso anno dell'ultimo trimestre dell'anno ha aggiunto la possibilità per i Facebook Shops quindi per le tue pagine di Facebook di pubblicare automaticamente i propri oggetti sui vari canali di vendita uno di questi canali di vendita è il marketplace di Facebook quindi seguimi tu metti in vendita nella tua pagina business mille oggetti quei mille oggetti puoi automaticamente abilitarti per i marketplace di Facebook quindi 300 milioni di acquirenti USA navigano su marketplace di Facebook e possono trovare il tuo negozio i tuoi articoli e comprai i tuoi articoli direttamente del marketplace misti agli oggetti usati e quant'altro misti seguendo quindi abbiamo un panorama di centinaia di milioni di possibili acquirenti scusate ragazzi avevo fatto vedere il microfono sono al destro quindi questo è il Facebook Shops so che l'introduzione a cosa fosse durato un po' però è importante rivedere innanzitutto cos'è ora io andrò a mostrattelo e vi farò vedere esattamente come funziona quindi mi rimpicciolisco leggermente ah una cosa importante da ripetere anche un vantaggio è che questo questi Facebook Shops si possono integrare con Shopify quindi tu puoi vendere i tuoi articoli Shopify integrare magari Shopify con altri sorgenti a breve anche AutoDS che è un software di automazione per il drop shipping delle marketplace supportare la Facebook Shops quindi potrai integrare tutti i suppliers come Amazon come Walmart e tutti i suppliers che vuoi su Facebook molto molto facilmente io per esempio utilizzo Amazon come fornitore e funziona alla grande una premessa il negozio che vi mostrerò è semplicemente un negozio nuovo di test quindi iniziato ieri però è importante per capire tutte le funzioni non perdiamoci tempo in altre chiacchiere andiamo a vedere cos'è questo Facebook Shops scomparirò perché mi sto spostando in una VPS questo qua ragazzi è la pagina principale dei Facebook Shops come vedete siamo sul link business di Facebook Corners perché Facebook ormai ha una parte dedicata totalmente alle Corners ormai è abbastanza comune in America in Italia ancora queste cose non sono arrivate però poi a te non dimenticato di dirvi che anche se siete eseguiti in Italia o siete eseguiti in altre parti del mondo Facebook Shops non è limitato a come si dice all'America potete anche voi iniziare un Facebook Shops semplicemente per il checkout vi servirà un AIN che è il codice di tassazione americano per le aziende potete richiederlo facilmente al costo forse di 30 dollari ma non sono qua per spiegarvi queste parti burocratiche se vi interessa scrivete la mia email o contattate un esperto del settore o fate due ricerche è molto semplice torniamo a noi quindi questa è l'overview la dashboard di overview del Facebook Shops come vedete c'è il catalogo gli annunci gli avvertimenti sugli oggetti le vendite come vedete è uguale a qualsiasi altro marketplace vi ricordo che siamo dentro Facebook gli oggetti che vendono di più Grow Opportunities al momento non ce ne sono consigli per la crescita la salute la salute dell'account e poi abbiamo a sinistra tutte le diciamo le categorie del nostro negozio molto importante guardate c'è il catalogo dove potrete vedere i vostri oggetti in vendita come questi cliccando su un oggetto come vedete posso vedere la descrizione creare varianti modificare l'articolo se vado su canali guardate su canali c'è le ads che al momento io non le utilizzo e poi ci sono le sales channel ossia tutti i posti dove sto vendendo questi oggetti marketplace e shops shops sarebbe la pagina del negozio marketplace e marketplace pubblico è importante sapere che potete anche aggiungere instagram volendo ok non si limita solo a facebook shops potete aggiungere poi nuovi oggetti filtrarli pubblicizzarli aggiungerli in gruppo o usare un'integrazione esterna come uso io io nello specifico uso l'integrazione di shopify potete creare le collezioni come su shopify quindi categorie del negozio potete diciamo divertirvi a fare tutte le vostre personalizzazioni come potete fare su shopify è molto simile poi avete la pagina problemi data source che sono i posti da dove prendete gli oggetti in questo caso c'è la shopify un file excel e poi gli eventi se volete diciamo collegare ad altre sorgenti di eventi come ad esempio un facebook pixel perché ragazzi è molto importante capire anche che questo negozio si può integrare con il vostro facebook pixel significa se voi avete un negozio su shopify in dropshipping integrato in marketplace aumentate molto le vostre vendite di traffico organico ma potete anche mettere il vostro pixel e raccogliere molti più dati poi c'è la pagina shop dove potete diciamo personalizzare la vostra grafica al momento lo salto perché è molto semplice semplicemente modificate il logo e quant'altro importante poi abbiamo la pagina ordini resi e dispute come vedete è molto simile ad amazon ebay new end e gli altri marketplace non cambia niente come vedete qua ci sono gli ordini se io clicco su un ordine mi farà vedere tutti i vari dati quindi il costo dell'ordine l'acquirente posso contattare l'acquirente posso contattare il supporto facebook o posso creare un'etichetta a me mi interessa che su un dropshipping posso marcarlo come spedito a questo punto potrò mettere il mio tracking number e selezionare il corriere come vedete ci sono tutti i corrieri mondiali ragazzi è un marketplace a tutti gli effetti è molto completo poi ci sono i resi che non posso non ne ho non ve li posso mostrare come funzionano in questo negozio poi abbiamo la parte feedback che qui non ne ho ma insomma molto intuitiva potete trovare i feedback le reviews dei vostri acquirenti e le vostre domande risposte avremo i payout che sono i pagamenti che facebook ci manderà questo è molto importante perché potete avere tutti i vostri report sui guadagni sulle entrate come vedete c'è il conto bancario il mio conto bancario e i soldi facebook li manderà al conto bancario ovviamente vi servirà un conto bancario se volete usare il check out interno di facebook un conto bancario usa io ho utilizzato un semplice wise funziona perfettamente potete creare report e quant'altro poi c'è la parte inbox dove potete comunicare con i vostri acquidenti al momento io non ho non ho domanda non ho domande quindi ho semplicemente l'avviso dell'acquitante che il suo articolo è stato spedito poi abbiamo parti molto importanti abbiamo le ads potete lanciare le ads per i vostri articoli ok molto più semplice magari se avete un negozio Shopify pubblicizzarlo in questo modo avete le promozioni quindi fare offerte quindi percentuali di sconto di acquisto e quant'altro marketing list potete in pratica prendere le e-mail detente dal vostro negozio degli acquirenti anzi è uno strumento potente e completo e poi abbiamo una delle parti più importanti ossia la raccolta dati le vendite i visitatori le pagine viste gli acquisti quanti degli acquisti non sono dei vostri follower della vostra pagina Facebook e quanti dei non follower i non followers sono le persone del marketplace come volete io non ho follower quindi ho zero acquisti dei follower sono tutti dal marketplace le vendite di questo negozio a questo punto abbiamo distinzione di genere ragazzi un sacco un sacco di dati che ci possono servire anche per costruire le ads quindi prendiamo un sacco di dati che possono servire anche in futuro audience abbiamo di tutto e di più i luoghi come vedete la maggior parte delle vendite cosa è vendita o traffico no traffico la maggior parte del traffico proviene da New York ma ci sono anche negozi anche acquirenti fuori da USA le lingue e poi d'altro poi ci sono una serie di impostazioni ragazzi va bene che non vi faccio vedere perché ovviamente ci sono dei dati sensibili ma diciamo questo è quanto come vedete ragazzi è uno stupendo potentissimo completo e soprattutto versatile per integrare il vostro Shopify o altri canali di vendita tipo WooCommerce eppure supportato potete collegarlo con fornitori come Amazon ho dimenticato di farvi vedere una cosa molto interessante effettivamente se andiamo su marketplace e cerchiamo gli oggetti solo a spedizione come vedete questi sono oggetti in vendita da vari negozi qua c'è il prezzo sotto c'è il nome del negozio come vedete sono vari negozi se ci clicco ho la pagina di poterla acquistare o aggiungerla a carrello come ogni normale marketplace ho le informazioni sul negozio questo negozio è a mille like l'opzione di spedizione resi i dettagli la la descrizione ora se qualcuno se voi fate dropshipping da Amazon avete riconosciuto immediatamente la descrizione questa è una descrizione Amazon perché questo signore qua questo negozio è un dropshipper da Amazon quindi potete trovarli come si fa magari come nella ricerca su eBay del dropshipping su eBay per trovare competitors come vedete titolo prezzo e descrizione vengono importati automaticamente quindi ragazzi dicevo è uno strumento potentissimo versatile accessibile a tutti l'unica cosa che vi serve è un'azienda un'ein potete aprire anche un'azienda americana un'llc con l'ein ufficiale e vi costa credo sui 250 dollari massimo 300 quindi poco più di 200 euro e poi inizia il dropshipping se volete sapere i numeri che io non vi ho mostrato ma dovrete sapere un paio di cose prima di tutto non ci sono commissioni su Facebook fino al 30 giugno poi le commissioni saranno il 5% quindi in ogni caso ora si vende gratuitamente e quando ci saranno le commissioni saranno molto basse 5% farvi capire i peri arriva a circa il 20% amazon a circa il 30% quindi il 5% è molto molto poco seconda cosa ci sono centinaia di milioni di acquirenti quindi avete un pubblico praticamente infinito per vendere terza cosa non ci sono restrizioni su dropshipping quarta cosa è molto molto profittevole è vero la competizione stavolta ma stiamo parlando ragazzi di Facebook se la competizione è morta su ebay o su amazon dove ci sono molti molti più shipper da molti più tempo è ovvio che non morirà su Facebook fatemi sapere nei commenti tra l'altro iscrivetevi ragazzi così restate aggiornati su tutti i nuovi video su tutte le novità ma fatemi sapere nei commenti se vi interessa questo argomento se volete magari guide più dettagliate esperienze più maggiori insomma degli aggiornamenti più frequenti sui Facebook for shops fatemi anche sapere cosa ne pensate ragazzi restivetevi ci vediamo al prossimo video ciao ciao